Oggi scopriamo un borgo antichissimo, già nell'861 si parlava di Casa Irtam, cioè villaggio in alto. Infatti siamo a 400 metri di altezza, a Caserta Vecchia, un piccolo gioiello da poco inserito nella lista dei monumenti nazionali italiani. Il cuore del borgo è Piazza Vescovado, dove si trova la cattedrale di San Michele Arcangelo, costruita nella prima metà del XII secolo. Cucu! Secondo la leggenda, queste meravigliose colonne vennero trasportate dalle fate dei Monti Tifatini. Il simbolo di Caserta Vecchia è lo spiritello, un simpatico folletto che porta fortuna. Mannello, qual è la storia degli spiritelli? La storia dell'ospiritello è questo coccetto di terracotta che si dice che mettendo un desiderio all'interno del coccio porta buona fortuna. A noi del borgo ci ha portato tanta fortuna e noi ci auguriamo che anche a chi lo compra o chi lo riceve porterà fortuna. Incrociamo le dita? Incrociamo le dita. Caserta Vecchia è un borgo magico, ma per scoprirne tutto il suo fascino bisogna perdersi nei suoi vicoli, dove regna una pace senza tempo. Di sicuro non posso andarmene senza aver assaggiato i famosi dolci di Cinzia. Grazie! Un maschio! Un maschio! Un maschio! A proposito, qui nelle giornate estive c'è un fresco da fare invidia. Un maschio! Un maschio! Un maschio! Un maschio! Grazie a tutti